e Metto un po' di roma nell'acqua dove ho messo a bagno l'uvetta metto il latte l'acqua un po' di olio tre cucchiai di zucchero e un po' di sale ho aggiunto un altro bicchiere d'acqua perché l'impasto è un po' duro metto due cucchiai di calmaro metto due cucchiai di calmaro metto l'impasto nella teglia metto l'uvetta e i vinoli è pronto lo metto in forno per 30 minuti a 200 gradi l'ho tolto dal forno adesso lo copro per circa due ore così diventa morbido l'ho tolto l'ho tolto l'ho tolto minuto se